Non parlavi di questa figura, un'ombra, una presenza. Come fai a non avere la minima idea di quello che vuoi fare? Ho scelto un percorso difficile. Devi insistere. Si vede che hai talento, ma il talento non basta. E questo è il mondo che hai a disposizione, ma fattene una futura ragione. Nessuno si rende conto della fortuna di non avere un problema o una preoccupazione o una malattia finché non gli compare. Pensaci bene. È bellissimo essere in un limbo. Essere completamente all'oscuro di tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.